Buongiorno buongiorno e buona domenica, domenica 26 aprile. 26 aprile 2009, 11 anni fa. Il Milan batte il Palermo 3 a 0. Sono andato a vedere qualche altro 26 aprile, magari più significativo a livello di importanza di partita o con qualche simbologia particolare. E invece pensate, negli ultimi 50 anni non ho trovato un bel, direi 60 anni, non ho trovato un bel 26 aprile significativo. Allora ho trovato però, nel 2009 mi sono salvato verso la fine del mio solito almanacco Panini che mi hanno dato i miei amici Melegari e ho visto questo 3 a 0. Un 3 a 0 che ha permesso al Milan di raggiungere la Juventus, l'Inter era più avanti, grazie al gol su rigore di Kakà, al gol di Inzaghi, in quel periodo scatenatissimo. Aveva segnato tre gol nella parita prima col Torino e il segnerà anche nella parita successiva. Inzaghi ispiratissimo nel mese di aprile, segna lui Inzaghi con un bel colpo di testa e poi chiude ancora, su calcio di rigore, ancora Kakà. Ma veniamo all'attualità. Oggi voglio riflettere su un punto. Ho parlato qualche giorno fa con un collega e parlavamo appunto di questi incontri che stanno per esserci o ci sono già stati tra i dirigenti del Milan e i giocatori per, diciamo così, per stabilire delle regole che vadano bene alla società e ai giocatori in caso di sospensione del campionato, per vedere insomma il famoso taglio di stipendi, quali nel caso, perché, quanto, eccetera eccetera. Parlavo con questo collega e mi parlavamo e abbiamo detto non parlerà con tutti i giocatori ma con i rappresentanti, con il nucleo, con il nucleo diciamo gli anziani, i senatori. Sapete che cosa abbiamo poi alla fine laconicamente scoperto? Ma quali sono i senatori oggi del Milan? Quali sono i giocatori che possano discutere con la società di un argomento così importante? Uno l'abbiamo trovato, il quiz da zero lire e parliamo di Alessio Romagnoli, il capitano, il vero senatore del Milan. Poi sono andato a vedere Donna Rumba, certo che è uno dei senatori, ma certo che può parlare dell'argomento, però il suo futuro, per parlare anche di futuro, quale sarà? I due terzini, uno è appena arrivato, l'altro è ancora giovane, Teo Hernandez e Riccardo Rodriguez, lasciamo, Riccardo Rodriguez non c'è nemmeno, Teo Hernandez, Laksal niente, Benasera appena arrivato, Bonaventura potrebbe essere, ma è un altro giocatore in uscita, Cialanoglu non so, potrebbe, ma faccio fatica, Castiglieco niente, Pacchetta niente, Ibraimovic non è forse, sta qui da qualche mese, potrebbe essere certo un grande senatore, ma anche lui è in una situazione particolare, Lea o Rebi ci lasciamo stare, ecco chi possono essere oggi i senatori? Ne ho trovato uno, Donna Rumba due, ma con tutti i problemi per il futuro, Bonaventura la stessa cosa, forse Cialanoglu, un pochino più di vita rossonera, ecco dove deve andare arrivare, dove deve andare a cercare di trovare i giocatori, abbiamo riflettuto, il fondo Iliott, i dirigenti del Milan, trovare dei senatori va bene, giocatori giovani, ma servono, serve un nucleo di personalità, voi direte, bella scoperta, ma se andate a vedere che questo gruppo, che cosa sta portando al futuro del Milan, non tanto sul piano tecnico, ma sul piano della personalità, fin quando non sappiamo il futuro di Donna Rumba e Ibraimovic, rimane Alessio Romagnoli, quindi solo Alessio Romagnoli oggi garantisce il presente e il futuro, ecco perché giovani, 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 certo, ma attenzione perché non può esserci solo Alessio Romagnoli che quando si guarda dietro non ha nessun compagno di carisma, di carisma che possa aiutarlo nel gestire il gruppo a livello di spogliatoio, a livello di partita, quindi questo è un altro dei problemi che si deve, che si deve, ovvio che deve risolvere il fondo Illiot. Giocatori di personalità, capitani, una volta nel Milan c'erano 5, 6, 7 capitani, oggi ce n'è uno, Donna Rumba e Ibraimovic, posso arrivare a tre? Posso arrivare a tre, ci sarebbe Reina e Biglia, ma Reina è a Liverpool, scusate, Reina è in Inghilterra e Biglia, e Biglia anche lui è un giocatore in uscita, quindi Alessio Romagnoli è troppo poco, se Donna Rumba e Ibra non rimarranno, cosa che io invece mi auguro il contrario, Alessio Romagnoli è troppo poco per diventare una grande squadra, una squadra che una volta era formata da tanti capitani, oggi ce ne sono due o tre, ma ripeto, di questi due il futuro non si conosce. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.